Dopo 12 giorni di attesa le porte della scuola si sono riaperte per i bambini e le bambine del convitto delfico. Anche se ora si trovano lontani dalla loro piazza Dante e dall'edificio familiare, l'inizio delle lezioni in una nuova sede porta con sé un forte significato. Gli studenti della scuola primaria dei Jacobis e della scuola media San Berardo, consapevoli del valore della comunità scolastica, hanno dato il benvenuto ai nuovi arrivati con entusiasmo e calore. La scuola pubblica in particolare è casa di tutti e non esistono barriere, non esistono muri che dividono e hanno fatto sentire a casa loro i ragazzi. È chiaro che si tratta di una situazione che è comunque emergenziale e che deve portarci a riportare subito i ragazzi, tutti, anche i ragazzi delle elementari e delle medie all'interno del delfico. Questo è l'obiettivo che non dobbiamo mai perdere di vista perché l'unica vera alternativa al delfico è il delfico. Il sindaco Gian Guido Alberto ha voluto anche chiarire l'aspetto della sicurezza sulle due scuole, dopo le polemiche dell'opposizione ma anche di alcuni genitori. Esisteva alcun atto, alcun provvedimento per quanto riguarda la Dea Cobis di interdizione del primo piano, questo era quello che c'era stato detto negli incontri. Abbiamo fatto un lavoro importante nel corso di questi giorni, abbiamo di fatto costituito un tavolo permanente con i genitori, ci siamo incontrati quotidianamente fino a tardi rappresentando tutte le carte delle due strutture. Sulla Dea Cobis in particolare è stato chiarito tutto ciò che riguarda lo stato dell'edificio, su cui peraltro, come abbiamo avuto modo di dire anche ieri, le verifiche effettuate in funzione del progetto di adeguamento sismico futuro su cui stiamo lavorando hanno anche fatto registrare dei numeri decisamente più importanti e più solidi rispetto a quelli iniziali. Segno anche del fatto che l'indice sismico, che non è il motivo per cui il delfico è stato chiuso, ribadiamolo, ricordiamolo, è un indice molto indicativo, molto variabile, che non influisce sull'apertura, chiusura e sullo stato di adeguatezza della scuola.